ciao a tutti e bentornati sul canale io sono domenico io sono marco e che ci abbiamo oggi una sfida tre contro tre vediamo che squadre escono le mani comunque un tre contro tre vediamo che squadre escono e poi diamo il nostro parere su chi potenzialmente potrebbe vincere allora innanzitutto togliamo la plastica esatto iniziamo eccoci qui vediamo chi è il primo personaggio del team marco sono incollato male o chi è ma si vede già c'è la busta la bustina nera attenzione chi vuoi trovare prima dici allora piacerebbe trovare endeavour vedecu anche va bene togata poi pure lei è carina o che figo lui è figo vabbè sono tutti tranne probabilmente sti tre che se mi escono non impazziscono quindi voglio voglio fare i più di tutti endeavour glow in the dark attenzione se fossero state floc e delle ali sarebbe stato perfetto carino carino figo pure grandicello se ne va con la mogale tocca a te io quello che voglio tutti non lo so penso eri o lei o anche lei diciamo questi tre sono quelli principali capito lui che è l'unico che non punta i 71 sotto e 72 dai oddio vediamo chi è il primo del tuo team lo tocca oh dio che non mi piace non ti ho disporerà va bene non ti ho disporerà come si apre non c'è la linguetta aprirlo a bustina attenzione chi è può essere occiaco e pure a te è uscito un top tanta roba c'è una macchia qua vabbè fighissimo pure a te è uscito un top attenzione perché alle ali che stavo volando oh mio dio sai che gigante però non è glow non lo so come si fa a vedere se è glow bisogna smettere il buio ma diciamo che bellissimo piccolino un quadro piccolino c'è praticamente il mio team stesse figo è carino poi vai diciamo che è l'unico che poteva piacermi in tutti quelli quindi comunque cosa mi esce adesso a parte eri vabbè eri ci sta mountain lady ci sta spero vediamo ci sta poi quella lì come si chiama ah però eh ne escire oh guarda è già aperto voleva uscire ha paura perché eri la caccio la caccio attenzione un altro siamo a 2 mi rio vai vabbè è 1 su 6 vabbè si trovi 2 su 6 io ho trovato 1 su 12 e forse 1 su 6 attenzione cos'è che è chico fighissimo che è Tamaki bello tanta roba il mio team il mio è più forte che c'ho due meriti questo invece è un po' più grosso il terzo mio dai questo deve essere uno che mi piace per favore un mount lady con il camioncino piccolo bello bellissimo quindi volevi una di quelle che volevi almeno dai le facciamo vedere i team questo di domenico e questo di marco forse vinto io diciamo si va bene quindi perché a te ne sono due realtà quindi ragazzi gli offro un caffè me lo prendo io un mirio e grazie e alla prossima puntata vi raccomando mi piace a tutto iscrivetevi ciao ciao